Ballando con le stelle, Luca Favilla, chi è la sua fidanzata? Luca Favilla, tra i professionisti di Ballando con le stelle, è già diventato molto apprezzato dal pubblico. Molti si sono fatti delle domande sulla sua vita e, in particolare, i telespettatori vorrebbero sapere se è fidanzato o meno. Ebbene, Favilla è molto riservato e non ama parlare di queste cose, se non della sua grande passione per il ballo che è iniziata all'età di 9 anni. Attualmente, osservando i suoi profili social ed anche le dichiarazioni occasionalmente rilasciate, sembra proprio che il ballerino professionista sia single. Anche se ora non c'è nessuno nella sua vita, in passato Luca ha ufficializzato delle relazioni, come quella con Lydia Schillaci nel 2019. Non ha più parlato però di lei e della sua vita privata e, non essendoci più traccia di foto insieme, appare probabile che i due possano essersi separati. Luca Favilla è stato anche al centro del gossip in passato. Infatti si diceva che il ballerino avesse una relazione con Benedetta Orlandini, suo partner di latinoamericano nel programma di amici. Non è mai stato confermato se i due siano stati davvero insieme, o se abbiano avuto solo un breve flirt durante la permanenza nella casetta di amici. Ad oggi, Luca forse vuole tutelare la sua vita privata e non rivelare il nome della sua fidanzata, oppure è effettivamente single. Qualcosa potrebbe emergere durante Ballando con le stelle. Luca Favilla ha una lunga carriera alle spalle che inizia ben prima l'acquisizione del ruolo di professionista a Ballando con le stelle. Come detto Favilla ha iniziato a mostrare la sua passione per la danza da giovanissimo, quando era ancora un bambino, e quindi ha iniziato a studiare per questo. Si è diplomato all'Istituto Tecnico del Turismo di Roma, ed ha provato ad avere successo in questo campo tentando la partecipazione ad amici. Luca ha preso parte alla quindicesima edizione ma purtroppo la sua esperienza è stata breve, perché dopo la sfida con un concorrente esterno è stato ben presto eliminato. È apparso nei videoclip musicali e ha continuato a portare avanti la sua passione per la danza, fino a diventare un ballerino professionista di Ballando con le stelle. In passato Luca Favilla ha affiancato anche Emanuela Arcuri e la blogger Cristina Hick. Ora è iniziata la sua avventura con Sara Croce che ha destato fin da subito grande curiosità da parte del pubblico. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate già Luca Favilla e vi piace il ballerino di Ballando con le stelle? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.